E.A. Sport It's in the game Ma già sta concentrata nel gioco Ragazzi oggi ce l'avete richiesto in tanti Un altro gameplay della Mendola's Mama E.A. Come potete La Mendola's Mother Ah è vero hai ragione Ecco qua vedi La Mendola's Mother quindi come potete vedere Dalla sua tenuta di gioco Stiamo per giocare a FIFA 15 con la partita Napoli e Juve Mamma noi per chi ti fiamo? Noi ti fiamo per la Juve Per i Napoli Tu ti fai ammazzare da qualcuno No 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 Noi ti fiamo per il Napoli Forza Napoli Quindi Napoli-Juventus Ovviamente noi ci scegliamo in Napoli Mamma vai avanti con la partita Premi X Eh devo premere X Però dovete dimmi prima qual è la mia La mia porta per Aspetta aspetta non premere ancora X qua Ti metto un po' più facile Così Qual è il principiante? Metti i soldi del secondo E vai Ma chi la fa? Non ti scassaggio Allora metti i soldi Ok Quindi iniziamo mamma Ma si inizia a scendere in campo Il giocatore Eh Mettiamo un po' la voce Allora qua magari così qua Devi di tastia Poi premi la X Allora Con il giocatore lo comandi Mamma con questa Con la manovella Ah sì Fai comandare Con il cerchio Fai il colpo di testa Prova a fare il colpo di testa Adesso Eh Hai fatto pure il cerchio Vediamo Troppa pioggia Troppa pioggia Troppa pioggia Possiamo giocare L'arbitro ha detto La partita Che buona Oh 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 Chi sta accettando la partita Ti ho capito Come già fa Mocca Accorda a te Vez Accorda a te Vez Vai fa Su strunzo Accorda a te Accorda a te Accorda a te Tu la parola D'acorda a te Zio Raffaele Eh Se hai mai fatto qualcosa di buono Calcio d'angolo Di chi Batte pirlo E chi è una perla Una perla Una perla Una perla Oh Non so Non so Non so Non so Non so Togli la pallola Come si tolgo Attenzione No no Non faccio Fai Eh Ma come si fa Per Con la X Per passare il pallone Eh Eh E poi Devi arrivare Fino alla porta Troppo potendo Troppo potendo Passa tagliato Devi passare quelli Con la maglia Celeste Ah eh Sì sì Ma riuscivo Ma se non c'è nessuno Là davanti È inutile che passi Quello verde Pure è loro Ma anche una grande rinascita Eh ma però Questi qua Vedi Questa cosa qua Vedi Il giocatore Con il pallino Rosso in testa È quella giusta No no Firm 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 Oh no Ah no Si fanno i tunnel Tra di loro Ma che cacchio fai La in calcio Da Ah già Spagliato Eh Cacchio fai Che posso fare Mamma Mi ha già Sto portando La macchina Sì Chi sto perde sicuro Questa che barba C'è il giocatore C'è il giocatore No È un giocatore Potremmo comprare di due Anche la mette Attenzione a Vidal Vai fuori Ah 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 Ha visto I sono forti I sono gola I sono forti E' un giocatore No Adesso C'è fatto Nisce un gol E' un giocatore Sì E' un giocatore Vai 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 Eh Firm 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 Quando sopra Quella linea E' fuori La non ce la devi Eh Ma chiede Perché Capite Ti voglio Pure la farò La scuola Di qua Sempre Eh C'è 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 E' come C'è C'è Pò Io non riesco I Allora Quando vuoi fare Pressing Premi Questo e questo Contemporaneamente Vado solo A togliergli la palla Ah ok Ma ce la dirò Premi piano piano La X Se no fa il passaggio Troppo lì Fa un poco Brava Ora passo a quello Eh Ti ho dato Dove portire Vai avanti Piano piano Eh Brava No Quelli con la maglia bianca Sono gli avversari Eh Cosa c'è No Killi Perché l'arbitro Ditti già qualcosa Che c'è 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 L'arbitro Sì Cosa c'è Già Che c'è Dici Oi Vai vai Premi il cerchio Premi il cerchio Ho cerchio ma ho cerchio No Mannaggia Pumpa Mannaggia Ma vuoi che fa Ma scelta tu qua Mi scelta Eh Non passare la palla Premi il cerchio Premi il cerchio Ah Brava Aiuto Palla Aiuto Sto scemo Non passare la palla Chi era il cerchio Chi era il cerchio Zappata Ti sape Ma Ti sape Sì Mi sape E' Pumarola E' Favuto un gol E' Favuto un gol Non ha fatto E' Non c'è ci ha fatto perdere la coppia devi premere questo e questo insieme ci vado solo a togliere la palla vedi? hai tolto la palla però a casa è meglio se no ci fanno un gol vai vai vai, corri, premi il tasto nooo, adesso puoi correre a chi sarete eh, ti ho sbagliato ora c'è la palla da te riuscirà a fare un gol se fa un gol no no, mi butto dalla finestra no no, mi faccio il gol io no no, chi sta roba oh, ferma, vai, accia ma non c'è la meron ah, se fa la meron ah, no vedi a chi ah, ah, dè, dè, unito gol, sì, sì, quando faccio io so forte io gioco tutti i giorni vai mamma, tiri, tiri ma col cerchio si tira ma col cerchio si tira ti fai fare gol se volete vederla faccio il gol, faccio voi basta che ci dite nei commenti su che gioco volete vedere giocare mamma su quale gioco volete vedere giocare mamma? ce l'ho commentato nei commenti vai mamma, tiri, col cerchio, col cerchio, vai ahhh che tiro chi è stato? la musica è vero non è vero la musica è sbagliata la musica è sbagliata è stato comunque bravo ha sbagliato è peccato la musica è brava chi è? Ocbonna ma ci siamo al parole Ridal Ridal lo shampoo scadente non faccio dire a chi no, 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 no tutto fermo tutto fermo c'è fuori gioco ha visto? ha visto come si hanno cattato la partita? ma è patevo fuori gioco ha sbagliato ha sbagliato no, io non mi ha cattato 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 vai, ma la x vuoi passare ho troppo potente vai 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 a quella a quella a quella vabbè, non spiemmare più la x adesso corri 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 cerchio 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 prova a dare nooo ma chi è? Vittorio ma chi è su Vittorio? tu vuoi il cerchio devi prendere pii giusto un volto no, chi l'ha tirata la zapp? è vero come la zapp? è zappata non è vero come la zapp? è zappo e questa vabbè è vero come la zappa tira pallonare che è tu vai vai che è tua passa la zappata vai mi ha dato la zappa l'arbitro manda tutti negli sfogliatori li manda tutti no e perché? l'ha mandato proprio ha fatto ma penuto ha fatto ma penuto già no il primo tempo Nooo, credo io che avevo finito il giocatore, che avevo finito il giocatore, ma come io stavo cominciando a prendere il gusto? Premi la X così inizia il secondo tempo. Andiamo. Ma ti devo far vedere un giocatore, mi devi dire cosa ne pensi di questo giocatore. Fammi vedere. Ok mamma, adesso devi guardare, questo giocatore è dritto in faccia, mi devi dire cosa ne pensi di questo giocatore. Ma che ne so, Cio. Com'è, è bello, è brutto. No, questo fa buono da... Ma che cacchi d'è sotto il collo? Ma che ne so, non è. S'è neato. Ok mamma, fatta il sentato, vai. Andiamo tutti in gamba. Tira da qua, tira subito, coscietti, coscietti, va. Oh no, ah! Si può essere segnato. Eeeh! A vero, come mai ne aggiunti la porta? Oh marronami! Ovviamente la sua grande qualità offensiva. Per trovare i tre punti. Ma io sono maradona. Io sono maradona. Non metti le pelle. Vai maradona, ma? Non ci sta maradona. Ma devi premere. Quando devi tagliare la palla? Oh! Maronna, mi si evaing! Che gol, che era facci? Devi premere questi due insieme? La X prima. Poi quando sei sotto la porta è il cerchio. Ah, vabbè. Ah, ma massa come andare. Il giocatore... C'è la manuella, eh ma? Ha spezzato bene qui. Il gioco avversario ha recuperato parola della giocatore mediale del campo. Passa con la X. Ancora una volta. Prendi la sapata. Buona la parata imprena. Eh, su buffone. Solo con me li stai fai parata. In Italia no. All'Italia no. Somme e merda. Somme e merda. C'è fatto fa che la figura è merda in Italia. Che la figura è merda. Ma se no, non ne avrei mai. E chi l'ha pulato? Ma se no, non ne avrei mai. Ma se no, non ne avrei mai. Eh, e parata e s'ha fatto solo con me s'ha fatto. Somme e merda. E chi ha pa' chissà? Oh! Come ha già già fatto? Leva il pallone. Accorta, accorta, accorta. No, no. Oh, io sto per me ne ca. Ma se non ci vai sotto, non è che... Marchisio. Stieni per il momento. Non vai verso l'avversario. Pirlo. C'è il movimento dei compagni. Non ci può andare. Eh. Eh, ma devi aspettare che loro tirano. Eh, perché non tiri tu scelta? Ah, parla. Contrasto rubido, vigoroso. Marchisio. Accorta, accorta. Oh, no, no. No, 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 no. Se mi fanno gol faccio vedere. Chi si è? E ci scasse mazzare. Vado fino all'anno. No! Ha fatto la figura di merda. Ha fatto il libro di no. Eh. Eh, c'è, mi c'è. Ma c'avevi il 23. Perché c'è? Non c'è. Te lo dico io. Premi X una volta. Un'altra volta. Brava. Un'altra volta solo X. No, però avrei solo l'avversario. Eh, vabbè, non va niente. Hai visto? Voleva fare... Ma io sono contento. Voleva essere in mancazzare in sera, eh. Perché avrà soddisfazione con questi qua, eh. Questi ho trovato... Chissà che ha tentato i partiti. Voleva. Un'altra volta. Un'altra volta ancora. Vai cos'è. Vai cos'è. Chiamano, chiamano. Bam! Maravolo. Hai capito che sto buffando sull'Italia? Con l'Italia non pare a capare. Hai capito? Non ho capito, questo sciame e merda. No, primo quadrato. Un quadrato, un quadrato. Un quadrato. Cerchio subito, cerchio subito. Tiro centrale. Ah, ci ha girato il pallone dalla fazza. Ma ho fatto unire male poi. Aspetta, aspetta, va. Cerchio. Ah, gol! Ah, gol! Ha diventato un gol! Ha giocato! Ha giocato! Ha giocato! Ah, ha visto, ha visto, ha visto, ripeti, ripeti, va. Ma perché sono un'altra. Chi è che lui lo ha giocato? Zappata. E lei ci ha facciato adesso. Non ho lasciato troppo spazio. No, no. Sei buonica. con questo... BOOM! Oh, gol! Goal! Goal! Ha fatto un gol! Ha giocato! Vai, vai! Mamma mia! Un po' che è da lontano! Questa è da lontano! Viste, io sapevo... Bufò! E gli è sciacca! Vai a cazza! A cazza! Ma va, va, però il gol è da finire. E quando ti apreci con le gol? 1-0. Oh, mamma mia, va bene. Però, vedi minuti nel gioco. Puoi fare un altro gol, va? Sì, guarda. L'arbitro concede. L'arbitro concede. Eh, aiutare a non tornare. Sì. 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 No, ma Napoli è grande. Napoli è forte. Napoli è Napoli. E c'è un cambio in arrivo per la squadra on-spite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Oh! Attenzione! Attenzione, G. Enrique! Allora sta su G. Enrique! Allora sta su G. Enrique! Ah, mamma mia, avete visto o no? È una roba pesante! C'è un sacco intenzionale. Che è successo? Che ha fatto? No, c'è successo che c'è. Ah! Stai finisciando un logo e ti do parlare con l'arbitro! Chi ne so lo raccomandato, lo sai o no? Allora, andate a voi. Una volta X, piano piano. Brava. Un'altra volta. Una volta! Una volta! È una! Ho fatto una! Zapatone, ho fatto una! Un'altra volta! Perché questi qua mi vogliono fermare i gol io? No! Sono stati fermati! La difesa è forte! No! L'hanno visto! Perché? Il gol ho preso il gol io! Guarda il movimento in area! Vai! Parte il cross! Ah! Rimesso dal fondo! Eh! Non male che si uscì! Eccolo qui intanto! Ci viene riproposto il gol segnato in precedenza! Vai! Premi X! Una volta! Quando lo prendi premisando una volta! Trovate con X! Dalla X! Andrata tu! Brava! Aspetta! E ora qui! Scuro come una ranna! Non premere niente! No! Bam! E faceva un gol! All'ampazio! Eh ma io sono potente! Lo dirò potente! Eh! Io sono potente! Lo dirò potente! Ehi! Ma è passato per il capo un po'! Eh! Ma è passato per il capo! Eh! Lo so! Stiamo a vincere! Stiamo a buoni! Stiamo a vincere! L'importante è stiamo a vincere! Levate il pallone al chissà! Eh! Chi è il gol da recuperare? Io non mi recupero niente! Qui sta la rimessa con le mani! La rimessa con le mani! Eh! È chiaro! Passi premis! Ah! Un'altra volta! Un'altra volta! Un'altra volta! E ora curgo la mano da me! No! Tu di chi quando apriamo le cerche? Eh va bene! Mi sono sbagliato! Non fa niente! Non deve abbattere! L'importante è che vincere! L'importante è che vincere! Allora ha fatto 10 di ribo! Hai già fermato! Chi si è preso qui? Chi si fa paura a me? Esci! Esci! Allora! 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 Guarda! No! Il replay ci mostra la cele precedente! È andato vicino al gol! Ma! Remix! Gira di primo Gira di prima! Poi prende Ancavo! bravo, bravo, bravo bravo bandierino se ne mangierò bandierino hai visto? 2 a 0 di Amsic guarda là troppo pesante ha vinto ha vinto Amsic fresco, più bello ma è la mamma che ha visto la creatura guarda là è bello guarda là va guarda 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 bravo bravo adesso sono avanti 2 a 0 ah vai che ci fai bruttezza vai guarda qui è finita è finita 2 a 0 per mamma ma era normale era normale che io vincevo perché lo so già questi qua con le persone che sanno loro e non dovevano vincere loro ma adesso non hanno fallato sei stato zitto perché ma che non fare mai una cosa seria perché io sono bravo ma va bene ragazzi accontentati con il video di fifa come dicevo prima ragazzi se volete un altro gameplay di mamma su un altro gioco basta che ci commentate ragazzi con che gioco volete vederla cimentarsi lo scrivete qua sotto nei commenti come al solito mettete un bel mi piace condividete su facebook twitter google plus e ovunque voi vogliate ragazzi iscrivetevi al canale degli amendola brothers se non siete ancora iscritti e alla pagina facebook degli amendola brothers dove potrete trovare tante notizie su di noi e tante notizie sui videogiochi e mamma se poi per caso il video a qualcuno non è piaciuto può capitare che qualcuno metta non mi piace quello lo sai tutti i video ci sono due non mi piace sempre e chi le sa chi so chi so ha già rice lo sappiamo chi siete non fa niente noi ci accettiamo tutto mi piace o non mi piace accettiamo tutto ma se per caso cliccano non mi piace da parte di uccellino del piero madonna grazie ragazzi al prossimo video ciao a io